e sono i ragazzi buonasera come state? spero bene spero che non siate troppo stressati o se lo siete spero che questo video possa rilassarvi oggi vi porto all'interno di un negozietto etnico di cibo etnico uno dei miei shop preferiti a me piace tantissimo girare ed esplorare provare nuovi sapori nuovi colori da aggiungere ai miei piatti nuove spezie come vi dicevo nello scorso video io amo le spezie e in questo posto ne trovo sempre in quantità e di qualità anche, soprattutto questo negozio è pieno, pieno, pieno di roba di cose super buone magari piano piano nel corso del tempo se volete ne proveremo altre insieme intanto per oggi ho selezionato questi alimenti che vedete sul tavolo per voi ho fatto una piccola spesina per provare e spiegarvi alcuni di questi alimenti che vengono dalla mia terra natale quindi c'è in centro sudamerica come potete vedere c'è della yucca del platano della pitaia e poi ho voluto spizzarirmi comprando alcuni snackini asiatici a passi di soia ci volevo provare con voi alcuni di questi alimenti bene allora da dove iniziamo? inizio a raccontarvi della yucca la yucca è questo tuberone tuberone che sentite quanto è ruvida e rugosa la sua puccia è super rugosa e proviene dal centro america e anche sud america si pensa che fosse uno degli alimenti principali della cultura maya è ricchissima di carboidrati ma non ha glutine quindi adatta anche a celiaci celiaci non so se avete mai sentito parlare della della tapioca la tapioca non so se avete mai più avuto bubble tea o cose del genere beh le perle di tapioca sono fatte da questo tubero cioè la tapioca è il risultato della lavorazione della maniocca esistra appunto questa farina con zero glutine adatta appunto alla preparazione di questo tipo di sfere piuttosto che anche i noci si potrebbero fare con penso che si fanno anche con la tapioca quindi maniocca il tubero tapioca la farina io ovviamente non lo mancerò stasera crudo con voi anche perché sarebbe un po' eccessivo e magari ci faccio un video in cui la cucino piccolo short o qualcosa adesso ci penso cibo numero uno spiegato cibo numero due questa bananuna gigante è il platano non so se ne avete mai sentito parlare non è il platano picchiatore di harry potter ma è il platano famiglia delle banane ovviamente è una banana più verde più grossa più acerba viene consumata così ancora verde mio papà ho questo ricordo bellissimo del mio papino che mi che me la cucina fredda perché il modo migliore per mangiare il platano è freddo ci fa una doppia frettura lo taglia a fettine lo frigge una volta dopodiché lo tira su dall'olio lo schiaccia con un bicchiere e lo rifrigge quindi ci fa una doppia frettura è una cosa molto buona cioè se vi piace se avete mai provato le chips di platano che ho qui che ho comprato apposta anzi no perdonatemi le chips di platano le ho rivelate a mio padre qua ho chips di ve lo dico dopo comunque se avete mai mangiato le chips è lo stesso sapore della chips ma mille volte più buono per me è da provare ovviamente terzo ma non un ultimo e diciamo frutto fresco insomma non confezionato rispetto a quello che vedete qua sul tavolo è il mio amore assoluto guardate che meraviglia cioè sarà sarà bello è il cosiddetto dragon fruit vediamo come suona questo è il frutto del drago o pitaya è un frutto è un frutto anche esso originario del sud america centro america e poi è stato esportato in asia perché lo mangiano molti cinesi questo e è un frutto molto particolare se non l'avete mai assaggiato ragazzi dovete provarlo se vi piace il kiwi e se vi piace il lici non so sapete cosa sono i lici un'altra frutta che io adoro l'ennesima potenza magari ve la porterò in un altro mangio con me comunque è un misto fra un lici una pera e un kiwi è una cosa stranissima ma lo apriamo dopo poi abbiamo un sacco di cosine da assaggiare insieme che non ho mai provato queste non le ho mai provate appunto me le sono trovate apposta da mangiare con voi e mi sono presa anche un dolcetto piccolo spoiler il dolcetto l'ho già aperto ieri perché avevo fame di dolce e non avevo nient'altro in casa che mi ispirava allora l'ho aperto però per fortuna dentro erano due pack separati quindi ne è rimasto un intatto e sono dei mini mochi se non li avete mai mangiati ragazzi provate i mochi ce ne sono di mille tipi diversi più europeizzati e anche meno europeizzati quindi con i sapori più classici con la pasta di facciale e zucchi dentro e la pasta di arachidi o anacardi loro li riempiono così li intendo gli asiatici in generale perché penso che i mochi si mangiano un po' dappertutto anche in corea forse fatemi sapere se mi sto sbagliando ho un po' di cosine da provare iniziamo vediamo da cosa possiamo iniziare allora a me sto ispirando troppo il dragon fruit cioè è lì lo guardo lo voglio mangiare ma me lo tengo per dopo visto che ci sono tante cosine belle a grasse onde da provare andiamo con questi che non ho la più belle idea di cosa siano ragazzi scusatemi allora dice semplicemente ve li faccio ve li avvicino dice semplicemente snack aromatizzato base di soia partiamo dal fatto che non sono una fan dei micro pack di plastica cioè bustine messi in altre bustine però purtroppo questo tipo di alimenti non può arrivare cioè in Italia non lo fanno e non può arrivare in Italia in nessun altro modo quindi ce lo becchiamo questi immagini e ricordo di portarvi dei maggio con me plastic free dove è possibile si te curiosi non lo fanno una piccola piccola piccolissima bustina che contiene tanto così di cibo inutile direi però sono troppo curiosa ma questa qua mi piacciono troppo è inapparibile ok, visto non scherzavo ok, l'utore non è molto invitante ragazzi anzi per niente sa di cibo per gatti ecco io una cosa che vi devo dire è questo che a me piace tantissimo provare cose nuove nel cinese ma tipo un 50% di quelle che compro poi non vi piacciono sempre vi prego ditemi che anche per voi è così comprate cose e poi non vi piacciono le fate mangiare a qualcun altro in questo caso il mio amoroso poveretto deve sempre mangiarsi tutte le cose che tutte le cose che io non mangio ve lo avvicino ve lo avvicino è che prima di trovare quella che mi piace cennesima potenza passano decenni e poi quando voglio andare a ricomprare ovviamente non c'è più assaggia che caro comprare ah è piccantissimo wow allora ragazzi prima mi ha ucciso wow già se lo mangio tutto divento un drago sputtafuoco ma io mi voglio male ne mangio un altro ecco adesso picca di meno è stato il primo che mi ha è stato una lampata allucinante bene diciamo che questo sappiamo già chi lo mangerà passiamo a una cosa che appena ho visto ma cosa sarò mai te lo avvicino sono praticamente sono praticamente degli spiedini dei finti spiedini di di soia sempre di soia super speziati super come piace a loro poi vi dirò in realtà questo al primo morso non è stato chissà che cosa però ti dirò mi sta lasciando un ottimo retro gusto in foca quindi sono curiosa ok apriamo allora l'odore è pezzo dell'altro però magari il sapore mi prendo un spiedino sono molto carini però ok fatti avanti spiedino molto buono infatti come mi dicevo alcuni sono hanno un odore forte e poi sono buoni altri hanno un odore forte e poi non sono per niente buoni che buoni ecco il mix di spezie ora che ho aperto però l'odore mi ricorda troppo è una cosa bruttissima potrei non dirlo ma la dico perché sono fatta così ricorda l'odore della lettiera di caldo ok mangio è un po' giuro che il sapore è stra buono ti dirò ti dirò ti dirò faccio ecco un altro ecco come il sapore mi ricorda mi ricorda mi ricorda un po' i nuggets del mac il sapore del pollo dentro perché lo sapete vero di cosa sono fatti i nuggets del mac se non lo sapete e volete continuare a mangiarli è meglio che non lo scoprite se non lo sapete e volete provare a mangiare dell'altro del cibo vero andate a informarvi sia chiaro nulla contro i fast food una volta al mese due uno ci può accantare tranquillamente ad esempio al burger king hanno messo l'opzione nuggets e whopper meccani spero che arrivi a ricanizzarsi ma ecco un attimino questo magari ritorna anche lì cioè c'è standard c'è una volta due al mese la questione è che se hai la consapevolezza che quello non è il cibo vero ok vai ti nutri finisce lì la cosa se non lo sai e ti nutri molto spesso di quel tipo di cibo lì beh non farai una bellissima fine non sono una nutrizionista né una dietologa però ho un minimo di coscienza e consapevolezza rispetto a quello che mangio e mi piacerebbe farvela arrivare anche a voi anche se questo canale non sarà incentrato sulle mie scelte alimentari non preoccupatevi non è veramente buono ci devo dire che questo tipo di cibo anche se è vegano non è cibo sano nel senso se io vado a vedere la lista degli ingredienti di questi spedini qua cioè il terzo ingrediente è lo zucchero e voi sapete bene che se in una tabella di ingredienti il terzo ingrediente è lo zucchero significa che quel prodotto è fatto almeno con il 50% di zucchero altrimenti la percentuale deve essere indicata se non lo sapevate piccolo tip piccola piccolo life hacks per fare spesso quindi non posso dirvi non andate al mac ma mangiatevi la carne di soia comprate dal cinese perché pieno edulgoranti però se devo scegliere se mangiarmi un qualcosa che ha vissuto ed è morto in un certo modo piuttosto che un qualcosa che è cresciuto in un certo modo ma non è morto in un certo modo preferisco mille volte alla fine noi siamo quello che mangiamo e io penso che l'energia la sofferenza e ristaglino all'interno soprattutto una cosa così utile come il corpo così materiale e quindi poi te le mangi quelle sensazioni e non fa bene nutrirsi di quella cosa lì tutto questo pippone per passare a un altro alimento un altro alimento non proprio healthy voglia di qualcosa di crunchy quindi altro piace di gibo me e ho che il pi pi questo è della patata dolce americana fritta chips di patata dolce questo è della delicious latina peruviano questo è delicato tagliamolo madonna che odore di fritto guardate che perfezione è quanto sono belle cose della natura guardate che meraviglia comunque la cosa più bella che vedrete stasera sarà questo ragazzi best patatina ever non c'è niente da dire fritta e buona tutto quello che vuoi ma questa patata dolce chips guardate quanto è bella sottile è super grossa riscaldino 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Tanta roba Tanta roba Mangio l'ultimo giorno Benissimo Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Allora fregano tutto E tostate, salate, speziate Aprende Aprende Come appro malo io ma leniere base Nessun Non riesco a capire come sia che va tu vedere asetto vi dirò pensavo fossero più buone è buono non è cattivo me l'aspettavo più speziato sinceramente dopo tutto questo tributio di spezie io faccio più mangiare della roba fredda quindi ci rimane the last one thing the last one salty thing me la sono lasciata per ultima questa perché ne avevo presa un'altra molto simile a questa e mi era piaciuto tantissimo sempre snack come se di soia fate anche la confezione più seria che bel rumor che fanno questa confezione infatti vedete questa è anche più meno chip diciamo come packaging perché sono quelli che si richiede bello bello perché sono così? aperto eccolo qua il nostro pacchettino che c'era? gusto c'erano sotto i peperoncini oh l'anice stellato io ecco ho delle spezze che proprio odio che non riesco mi fanno venire a movitare solo a sentire l'odore di questo proprio l'anice colpa delle sprunze da sambuca buono questo odio è molto buono si è lui è lui guardate è fatto a mo' di pezzettino di carne pezzettino di soia quadratino è il migliore senza ombra di dubbio poi c'è questo picchettino che sale piano 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 buono non come l'altro che mi ha bruciato i polmoni quindi Grazie a tutti. Questo ragazzi è molto molto buono. Passiamo alla parte sweet. Pacchetti goji. Adoro i pacchetti goji. Fanno stra bene. Mi pare siano anche un superfood. Le pacche di goji. Non lo so per se sto dicendo una cavolata. Comunque che fanno stra bene. Fanno proprio dalla Cina. Che direi ragazzi. Io con queste. Infatti lo faremo in un altro video. Vi proporrò una ricettina. Che non è proprio una ricetta. Ma è un preparare un alimento per la colazione. Ecco senza fare troppi spoiler. Comunque questa avendo la chiusura. Salva freschezza. Le posso richiudere. E ne voglio assaggiare alcune qua con voi. Sperando di non rompere il sacchetto come l'altro. E non rompere il sacchetto come l'altro. Ma hanno un profumo spettacolare. Ragazzi sono buonissime. Ottima scelta direi. Allora ragazzi. Visto che il momento salato è finito. Direi di tenervi il dolcino. Come ultima cosa. Dopo. Il dragon fruit. Faccio sparire la frutta. Sono magica avete visto. E ora. È l'ora di aprire. Questa meraviglia. Già. Sarà meraviglioso. Se non c'è successo da vederla così. Non mi sembra qualcosa di. Non so magico. Pronto magico. Come i occhi di One Piece. Pronto del diavolo. Se non mi sembra. Taglierino. Cucchiaio. Io non so come mangiare i kiwi. I kiwi. I kiwi. Ma. Io. Di solito li apro a metà. E poi li scavo. Con il cucchiaio. Tiro fuori tutta la polpa. Senza stare a spugciarlo. E me lo mangio così. Tagadadada. No ragazzi. È una cosa. Questo non so se si ha. Se abbia l'interno fucsia. O l'interno bianco. Scopriamoli insieme. Perché ce ne sono di due tipi. Mamma mia. È quello con l'interno fucsia. Cosa ve lo dico. Cioè guardate che. Che meraviglia di buio. Cioè con questa fate degli smoothie. Rosa. Da paura. Tecnica. Di indigeno. Tac. Mamma mia. Ma cosa sai? Guardate che colore. Meraviglioso. Magico. Fantastico. Questo è proprio frutto della strega. Sono sicura che se non l'avete mai provato. Mai assaggiato. E vi piace il kiwi. Ma più delicato. Ah sa quasi di ancuria. Tratti perché questo è quello rosso. Invece quello bianco. Non ha questo retrogusto. Ancurioso. Beh vi farà impazzire. Mamma mia. Ma guardate che colore che ha. Eccolo qua. Mamma mia. Ma che bello che è. Mi dispiace quasi mangiare a quest'opera di madre natura veramente. Guardate come l'ho scavato per bene dentro. Cioè è fantastico eh. L'altra metà me la tengo per dopo. E l'altro me lo tengo per domani. Ecco invece l'odore. L'odore non ha odore. Cioè è un frutto in odore. Si è paragonato al Jack Fruitt. Non so se avete presenza che se è il Jack Fruitt. E se lo trovo. Perché qua è difficilissimo da trovare. Quasi introvabile qui in Italia. Se lo trovo. Ve lo porto. E ci faccio un video. Se vi può interessare. Ultima. Piedanza di oggi. Sono questi. Come vi ho anticipato prima. Li ho già aperti. Sono dei minimi. Oggi al tema. Piedanza di oggi. Lo so. Qu'è? Il per l'altro. Il per l'altro. Qu'è? vedete qua di sotto sono le scattone di luci sono quattro luci è possibile anche scoprire una con ok ecco e questo come si presentano una volta scadati sono big me muscoli e ciao allora non incontrano il mio gusto ve lo dico molto sinceramente già ieri sera quando li avevo mangiati non mi avevano entusiasmato molto i miei preferiti sono i mochi ice cream quelli con dentro il gelato il mochi classico mi piace ma deve essere fatto in un certo modo ecco questo ha la copertura esterna al temaggio dentro aspettate che ve ne hanno ammirizzando un altro ve lo faccio vedere dentro ha questa cremina bianca al gusto di mandorla mi ricordo molto la mandorla sarà una crema di frutta secca perché loro ci mettono anche la crema di frutta secca dentro e poi non sono creme ma paste sono molto più pastose e ti dirò non mi fa impazzire ho assaggiato dei mochi migliori quindi ragazzi il nostro tavolo si è liberato io sono sazia ho mangiato solo delle cavolate questa sarà mia cena di oggi però ci stavo assaggiando delle cose veramente buone tipo le chips di patate dolce fantastiche favolose spero che questo video vi sia piaciuto che vi abbia tenuto compagnia che vi abbia fatto rilassare nel frattempo noi ci vediamo domani con un nuovo video un piccolo video l'ho già registrato ve lo pubblico domani non vi spoiler niente e ci vediamo domani ragazzi rip fate dei bei sogni e solaie a domani grazie a tutti